buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 25 gennaio 2024 oggi abbiamo un giornale pieno di cronaca sono stati veramente molte azioni da parte dei carabinieri della polizia ci sono stati malviventi furti insomma veramente ne abbiamo visti tutti i colori e le vedremo oggi leggendo i giornali una giornata molto intensa si avvicina il carnevale speriamo che questo non sia un sinonimo di così di velleità di provocazione da parte dei malviventi che stanno un po' furoreggiando un po' in tutti i quartieri non solo della nostra città ma anche nelle cittadine dell'entroterra ma di questo parleremo tra breve intanto passiamo per l'almanacco dell'ordine dell'almanacco del giorno vediamo un attimo che si festeggia ed eccolo qui è un ancora un evento ieri abbiamo festeggiato il matrimonio di giuseppe maria e oggi invece festeggiamo la conversione di san paolo un momento topico della storia del cristianesimo paolo di tasso saulo fariseo della tribù di beniamino persecutore dei cristiani si convertì in seguito ad una forza misteriosa che lo balzò di cavallo sulla strada di damasco da allora divenne l'apostolo delle genti e morì decapitato a roma sotto la persecuzione dell'imperatore nerone dal momento della sua conversione alla sua morte camminò viaggiò un po per tutto il mondo allora non dico conosciuto ma quello che faceva parte dell'impero romano attuò tantissime conversioni e conversioni e pose le basi della dottrina cristiana con le sue lettere con le sue epistole vediamo ora le previsioni del tempo eccolo il tempo di oggi sulle marche è un tempo stabile possiamo dire la caratteristica che è un po che fa la differenza della giornata di oggi rispetto a quella di ieri la nebbia c'è tanta nebbia molta foschia stamattina i fanesi che guardano verso l'entroterra non vedono monte giove e quindi anche in mare la situazione è di poca visibilità tempo stabile prevalentemente soleggiato probabilmente la nebbia si alzerà nel corso della mattinata però il pomeriggio ci sarà un cielo fuscato da nubi alte di passaggio le temperature si stanno alzando 5 la minima 14 la massima i venti sulle coste spireranno da ovest nord ovest nell'interno con una tensione più debole da sud sud ovest il mare è leggermente mosso questo per quanto riguarda le previsioni del tempo ed ora apriamo il resto del carlino e diamo subito un'occhiata a quella notizia che vi ho anticipato Fano far west al Vallato Vallato è uno a quartiere periferico della città di Fano che divide un po' il centro urbano dall'aeroporto e qua ci sono state veramente delle azioni molto molto agitate partono i proiettili ladri in fuga tentano di travolgere un agente è successo lunedì scorso intorno alle ore 18 ebbene una pattuglia ha intercettato dei topi di appartamento che avevano appena messo a segno un furto in una casa del quartiere a cortesi della pattuglia i ladri sono saliti in macchina e si sono dati a precipitosa fuga ebbene questa fuga è stata molto rocombolesca prima i banditi hanno bruciato l'alti via Benedetto Croce poi hanno imboccato via Papiria a contromano e alla fine sono riusciti a fuggire probabilmente passando per l'autostrada una rincorsa esagitata tanto che hanno rischiato di investire un poliziotto che gli aveva intimato di fermarsi e nella fuga poi hanno imboccato via Papiria a contromano a folle velocità il poliziotto ha esploso alcuni colpi di pistola per cercare di colpire le gomme ma non c'è riuscito la macchina si è dileguata comunque ci sono degli elementi per rintracciare questi topi di appartamento che hanno così messo a rischio l'incolumità non soltanto del poliziotto ma anche dei passanti se c'era qualcuno in quel momento per strada e un'altra notizia di cronaca invece è accaduta sulla statale adriatica a nord di Fano ubriaco e a torso nudo crea il panico a Gimarra alle 5 del mattino attraversava avanti e indietro rischiando di finire travolto delle auto era a petto nudo ebbene alcuni automobilisti lo hanno visto hanno avvisato la polizia e la polizia è intervenuta nel momento in cui intervenuta quest'ultimo ha reagito insomma è dato ha dato in scandescenze e per questo è stato denunciato per resistenza al pubblico del pubblico ufficiale si tratta di un trentenne che ha seminato il panico tra gli automobilisti nei pressi del bar notturno. Geriamo pagina ma troviamo ancora notizie di cronaca ebbene questa volta si parla di spaccio e di stupefacenti officina dello sballo 28enne nei guai in casa sono stati trovati oltre 30 chili di droghe di droghe di tutti i tipi, cocaina, hashish, marijuana e forse anche chetamina trovate anche un kit per il confezionamento e macchinette contasoldi macchinette contasoldi perché di soldi se ne incassavano parecchi se ne sono stati trovati oltre 400 mila euro almeno per un giro d'affari che si stima a questa cifra non per niente in casa è stata trovata anche una macchinetta contasoldi e appunto e questo si evidenzia nell'articolo si tratta di un fanese di 28 anni che ha numerosi precedenti penali e che dispone anche di una abitazione nella capitale a Roma ebbene riforniva le piazze di Fano, Pesaro e un po' in tutta la provincia una precisazione da parte della banca di credito cooperativo di Fano di cui ieri il Carlino ha pubblicato una foto di un defibrillatore posto all'esterno della figliale di Corso Matteotti nei pressi di piazza 20 Settembre a corredo di quell'articolo che parlava di defibrillatori non funzionanti che dovevano essere tutti revisionati il fatto era a margine di un infarto accaduto a una persona in via Gabrielli e soccorsa con un defibrillatore che non è entrato in azione ebbene la banca precisa che tutti i suoi defibrillatori e ne sono stati disseminati parecchi sono tutti funzionanti e il giornale ammette che la foto era una foto emblematica non individuava quel defibrillatore oggetto dell'articolo ma era una foto così per identificare i defibrillatori sparsi nella città di Fano e dopo cinque mesi il relitto di una barca affondata nel porto di Fano è ancora lì il proprietario non la rimuove la capitaneria di porto ha detto al comune di rimuoverlo lui stesso in modo che poi si rivalgano i confronti del proprietario ma la cosa è rimasta senza alcun intervento e allora interviene il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Gianluca Ilari e dice ebbene dopo cinque mesi il relitto è ancora lì basta scarica barile protocollata una interrogazione per avere i tempi certi sulla rimozione ebbene avere anche questo intralcio nella navigazione del porto non è certo piacevole fare poi tutto il traffico delle barche che vanno e vengono altri articoli vediamo sempre sulla pagina di Fano si parla dei molti cantieri che sono sparsi nella città e i cui lavori però creano problemi alla circolazione in via Ale Battisti per esempio c'è tutta una parte che è preclusa al traffico ci sono problemi poi anche nella zona di Sassonia problemi per raggiungere il parcheggio Van Vitelli insomma la zona mare diventa un vero e proprio labirinto e interviene anche l'assessora ai lavori pubblici Barbara Brunoli che dice imbottigliata anch'io portate pazienza perché quando si fanno i lavori anche dentro casa qualche scompiglio si crea ma sono tempi limitati e domenica altre strade saranno chiuse per il carnevale allora lì sarà un vero e proprio delirio ma di questo ancora non parliamo parliamo invece della prima giornata a margine di quella iniziativa che ha organizzato l'assessore al turismo Etienne Luccarelli per quanto riguarda gli stati generali del turismo ieri si è parlato diffusamente del mondo della pesca e in modo particolare anche della cosiddetta vongola quella struttura a forma di vongola che dovrebbe essere posizionata in zona porto a Fano e al cui interno si vive veramente e si emoziona anche di fronte alla storia della marineria di Fano e i suoi aspetti i suoi racconti i suoi elementi sono queste le principali suggestioni che un visitatore che entra all'interno della vongola potrà vivere quando viene a Fano ma quali maxi vongole sono un mix di tecnologia ovviamente tutto questo viene fatto attraverso la tecnologia e non a caso abbiamo anche degli istituti scientifici che collaborano a questo proposito compresa la Politecnica delle Marche l'Università di Urbino l'Università della Sapienza di Roma insomma abbiamo i tecnici preparati che potranno farci vivere un mondo virtuale ma all'interno di un mondo reale quale il porto di Fano ed ora passiamo di elezioni perché anche la notizia che le elezioni sono in fase di stallo la campagna elettorale anzi non le elezioni la campagna elettorale è in fase di stallo fa notizia elezioni il campo largo finisce in bagarre c'è stato un incontro tra il Partito Democratico e gli altri partiti che compongono la maggioranza consigliare a Fano in questo momento e il gruppo dei progressisti per cercare un'intesa un'intesa che non c'è stata non c'è stata anzi sono volate parole grosse Etienne Lucarelli sbatte la porta e lascia la riunione offeso cartelle e pugni sbattuti sul tavolo toni di voce che si sono alzati più di una volta a cui ci sarebbero raggiunti secondo il racconto fatto dai partecipanti astio, rabbia e alcuni casi anche maleducazione pensate quanto turbolenta sia stata questa riunione così come scrive Anna Marchetti oggi sul resto del Carlino a far perdere le staffe all'assessore Lucarelli candidato sindaco anche lui alle primarie sarebbe stato l'ex sindaco Francesco Baldarelli che è tornato in auge all'interno di Fano Ribella lo avrebbe zittito Baldarelli sottolineando il maggior peso politico che avrebbe a il Partito Democratico nei confronti delle liste civiche l'incontro si è comunque concluso con un nulla di fatto e ci sono anche delle prese di posizione dei progressisti ne parla per esempio la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri che dice che il controllo il confronto di ieri è stato viziato dalla presenza dei candidati alle primarie e non gestito dalle segreterie dei partiti nel senso che i candidati pensano un po' per conto loro mentre le segreterie dovrebbero avere una visione più globale secondo Marta Ruggeri qualcuno ha così evidenziato un ruolo che potrebbe così conciliare le parti che potrebbe essere assegnato a Stefano Marchegiani il quale responsabile di azione ma però insomma Stefano Marchegiani con questa sua decisione si è posto lui stesso in discussione e vedremo appunto se alla fine tutto questo sarà ricucito oppure sarà uno spacco che non è più rimarginabile e intanto vediamo anche quello che accade a Sant'Ippolito perché a questo argomento viene dedicato un articolo a fondo pagina voto Tomassetti passa Marchetti ci riflette non si ripeterà la sfida che nel 2019 fu vinta dall'attuale sindaco per soli tre voti pensate allora Tomassetti che ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 2014 al 2019 e che ha 5 anni e che 5 anni fa è stato battuto per 455 voti a 452 452 che sono stati poi attribuiti al suo avversario pensate per tre voti uno è stato eletto candidato sindaco ma ovviamente questo può capitare e questo è assolutamente democratico Urbino Urbino si parla di sanità una operazione eccezionale compiuta nell'ospedale ha sportato un tumore del peso di 6 chili un intervento di circa 3 ore per una paziente di 59 anni che aveva una cisti ovarica di dimensioni del tutto inusuali l'intervento è durato circa tre ore ha detto il primario di ginecologia del nosocomio Urbinate Leone Condemi che aveva lo scopo di asportare una cisti ovarica di forma ovalare del diametro massimo pensate questa cifra del diametro massimo di 50 cm 50 cm la paziente pesa 50 kg e già martedì è stata fatta alzare dal letto e tra pochi giorni potrà lasciare l'ospedale veramente un intervento di eccezionale difficoltà di grande portata ma che si è risolto bene Restiamo a Urbino per segnalare anche quest'altro articolo Michelli prepara una lista elettorale sosterrà la coalizione dell'attuale sindaco Gambini confronto tra Urbino città ideale più e il primo cittadino rimane per poco il nodo del terzo mandato se può così ricoprire ancora la carica Gambini Ed ora passiamo al Corriere Adriatico L'articolo di apertura del Corriere è dedicato lo abbiamo qua è dedicato al giro di droga che è stato scoperto dai carabinieri laboratorio per le droghe in casa nel garage 27 kg di stupefacenti i carabinieri hanno arrestato un ventottenne di Lucrezia la confessione al giudice aveva perso il lavoro e quindi se ne era trovato un altro ebbene è stato scoperto un vero e proprio laboratorio per confezionare le droghe e produrre anche un mix di cocaina M chetamina e altre sostanze 30 kg di stupefacente quasi trovati nel garage di questo ventottenne fanese arrestato sabato scorso dai carabinieri di Fano scogliere 8 milioni per lavori per proteggere Metauriglia il più rilevante affidamento del comune per tutelare la costa ne ha parlato il vice sindaco Fanesi che ha evidenziato ancora questo nuovo intervento che proteggerà la costa dall'hotel Playa fino alla foce del fiume Metauro una costa che ora potrà così consolidarsi di fronte alle marreggiate e anche poter far stare al sicuro le concessioni balneari un'auto cerca di investire la gente l'altro poliziotto spara tre colpi banda di ladri intercettati dalla volante del commissariato nel quartiere del Vallato i malviventi inseguiti riescono però a dileguarsi nel traffico imboccando contromano via Papiria e ringraziamo il cielo che non sono accaduti incidenti ma soffremiamoci un pochino di più su questo articolo di politica che occupa la pagina della Valmetauro ma che sostanzialmente riguarda la città di Fano vediamo che c'è un conciliabolo tra due protagonisti di questa campagna elettorale il segretario del Partito Democratico Renato Claudio Minardi e la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri ancora comunque una fumata nera l'abbiamo visto l'abbiamo detto dopo il confronto tra i progressisti e centrosinistra svoltesi martedì scorso è stata ventilata la possibilità di un ulteriore tentativo una riunione da convocare domani ma alla luce dei fatti sarà difficile recuperare una intesa al momento un'opzione non se ne immagina non se ne trova rimane impraticabile chiuso il tavolo della trattativa ha detto Marta Ruggeri coordinatrice provinciale dei 5 Stelle c'è una differenza di valutazione dobbiamo dire perché sul resto del canino si dice Marta Ruggeri che c'è ancora una possibilità di andare avanti invece sul Corriere si dice che la trattativa è ormai chiusa da una parte il tavolo il gruppo dei progressisti dall'altra una delegazione del centro sinistra ma la chimica politica scrive Svaldo Scatassi la chimica politica non è scattata e la prospettiva dell'alleanza di Campolargo si è inabissata per l'ennesima volta inabissata vuol dire che è andata a fondo e quindi sarà difficile farla riemergere vediamo anche la pagina della Val Cesano sosta selvaggia in centro ambulatori senza spazi ambulatori medici che hanno bisogno di spazio perché i clienti gli utenti diciamo meglio forse qualche volta sono costretti a fare delle lunghe attese quindi mettere la macchina lontano certo non è agevole la minoranza di Mondolfo chiede una diversa regolamentazione più controlli insomma questa piazzetta che fronteggia gli ambulatori dovrebbe essere meglio fornita di una sosta più rispondente alle esigenze quindi c'è anche una richiesta al sindaco vediamo che la pagina di Senigallia anche qui emerge la cronaca pugni schiaffi e insulti razzisti per una partita che è finita male derby shock multe e squalifiche punito lo stravetere e un suo dirigente violento il presidente afferma ribadisce non ho sentito offese agli avversari ebbene però l'incipit dell'articolo è in questi toni pugni schiaffi e insulti razzisti nella partita di sabato scorso allo stadio tra Ostavetere e Tre Castelli in un campionato di seconda categoria il giudice sportivo ha punito con tre ammende le due società che si sono affrontate una da 500 euro per l'Olimpia o stravetere perché il suo sostenitore ha rivolto espressione indiscutibilmente di stampo razzista nei confronti di due atleti della squadra ospite di chiara origine africana quindi anche qui abbiamo il razzismo un gravissimo episodio avvenuto proprio nella settimana in cui si sentono ancora gli echi del caso Magnan e beh insomma non ci si corregge è difficile poi ammettere i propri errori ci si ricasca ancora una volta purtroppo lo sport ha di questi aspetti deteriori vediamo qualche notizia di Pesaro siamo ormai in conclusione ma vediamo come anche nel capoluogo si evidenzi l'argomento della riduzione della velocità a 30 chilometri orari che è scaturita dalle decisioni che ha assunto Salvini a Bologna in città sono già attive 13 zone 30 ma le strade comunque restano pericolose il presidente del comitato per la bassa velocità informa un incidente al giorno e 25 feriti ogni due settimane voce ai timori di pedoni e ciclisti che non si sentono sicuri insufficiente anche il trasporto pubblico ebbene in città ma come anche in altri altri centri della provincia gli incidenti si ripetono nonostante che ci siano dossi cunette restringimenti di carreggiate nonostante che ci siano zone 30 che purtroppo nessuno rispetta anche se una zona 30 invita il conducente di un autoveicolo a moderare la velocità insomma invece di andare 70 80 l'ora va ai 50 60 però è una velocità che non si addice in quella strada perché quella strada è pericolosa più delle altre quindi dovrebbe essere così ridotta la velocità zone 30 Pesaro ne conta 13 nei vari quartieri ma per Andrea Pirozzi che è il coordinatore del gruppo Pesaro 30 non sono abbastanza Pirozzi ne vorrebbe ancora di più e prima di chiudere voglio segnalarvi quanto accade a Villa Fastigi apre il cantiere per ridurre le corse delle auto partiti i lavori per la messa in sicurezza dell'accesso al quartiere Villa Fastigi insomma si preoccupa e si occupa per conto suo e questo per il momento è tutto non possiamo far altro che adesso chiudere i giornali e darvi appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per la ascolto e a risentirci a Autore dei sorrisi